Musica Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come ogni volta, voglio farvi vedere tutta la patch 14.50 Tutto quello che è stato trovato, poi ovviamente domani mattina nel video news vedremo tutti i dettagli magari delle varie modifiche Ci spostiamo subito quindi nel nuovo, nell'overlay Ah, prima mi raccomando, se vi piacciono i video lasciate un bel like e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news Allora partiamo ragazzi e al primo posto abbiamo ovviamente il pack di Joker L'avevamo già visto un paio di mesi fa, era già stato ufficialmente sponsorizzato sulla pagina delle news di Fortnite Quindi The Joker, Poison Ivy, tanta roba E una variante di Midas, Midas Rex Che visto così effettivamente non fa impazzire ma credetemi ha una variante che è molto molto carina Insieme al pack arrivano i tre picconi, che fra poco vedremo, ma arriva anche la copertura ragazzi La scia, scusatemi Pic a card, prendi una carta, scusatemi In poche parole Questa è un'immagine di come si presenterà la skin di Joker in game Devo dire che è stato veramente fatto molto molto bene Così come Poison Ivy e come Midas Il prezzo del bundle dovrebbe essere di 29,99 Una roba veramente abbastanza importante per quanto riguarda la spesa Ma andiamo avanti perché è stata decriptata anche la skin di Pizz No ho sbagliato Ciao un saluto al pizzone È di Lachlan Questa ragazzi sarà la skin che viene regalata Se nel torneo di Lachlan il Pikaex Frenzy Quindi il piccone frenetico Riuscirete a qualificarvi in una buona posizione Quindi provateci mi raccomando Altrimenti comunque la skin verrà rilasciata nello shop E sarà tranquillamente acquistabile con i V-Bucks Arrivano tante altre skin Tra cui mi viene quasi da piangere ragazzi Il Key Pop Questa skin per chi è abbastanza OG È stata vista per la prima volta nei file di gioco Nella season 5 Signori parliamo del 2018 Io non ho molto da commentare Perché non ha molto senso che sia rilasciata adesso Però l'ultimo grande pack Che mai è stato proposto in game Lo vediamo finalmente a due anni di distanza E un'altra notizia davvero incredibile È quella dell'arrivo degli stili OG Della season 1 Per quanto riguarda le default skin Come vedete dietro al Jonesy normale Ci sono tre stili che erano presenti In season 1 E facevano appunto parte delle default skin Non verranno regalati ma molto probabilmente Saranno un pack da acquistare Quindi Io non sono a favore sinceramente di questa cosa Perché come vedete ci sono anche ovviamente Le controparti femminili Perché non è un granché come ideologia È proprio penso pura strategia di marketing Non sappiamo il prezzo del pack Però così è Andiamo avanti perché ci sono tutti invece I backpack delle skin che vi ho fatto vedere Compresi i backpack del pack di Joker Che sono partendo da quello leggendario di Midas Andando avanti Davvero molto bello il box dove esce il piccolo Jolly Molto bello anche la pianta carnivora di Poison Ivy Il terzo backpack che vedete lì nella penultima fila Indigo Kama È un backpack esclusivo Per quanto riguarda una skin di PS5 Ma ve la faccio vedere tra poco Una rapida occhiata anche a tutti i piccone Il Tater Pounders Lo Stuffy Smasher Che ovviamente farà parte Della skin Kpop E il Throwback Axe Questo invece verrà regalato Vi invito ad andare a vedere il video news di questa mattina Per scoprire come ottenerlo Chiudiamo con il Night Bite Quindi un pesce termico Trasformato a piccone Arriva anche un deltaplano Che credo farà parte del set Dove ci sono le skin OG E infatti il deltaplano si chiama D OG Molto molto chiaro Arrivano anche ovviamente le coperture Holo foil Capiamo che è una copertura animata Cityscape Che va un po' a riprendere Una città futuristica Poi ve la faccio vedere meglio Per farvela capire E viene introdotto anche Una nuova Un nuovo background musicale Il Boss Battle Non ve lo posso far sentire Mi sa ancora per i diritti È una musica Molto molto carina Molto molto Yo yo Vedrete un po' Ma questa ragazzi è un'immagine davvero importantissima Perché è la conferma ufficiale Dell'arrivo di un evento Per questo termine di season 4 Del capitolo 2 Lo capiamo perché Giorni Ore Minuti Secondi Dentro lì ci sarà sicuramente Un countdown Non sappiamo Dove verrà posto Questo cronometro Questo countdown Ma Vedendo un po' lo stile Io azzardo a dire O le Stark Industries O le Stark Industries Comunque tutta questa season Si è più o meno basata Sulle varie lavorazioni del Tony Che mi porta pezzi di mappa Mi modifica le cose E parlando di Tony Tra l'altro Abbiamo anche Arriva fra poco Il nuovo backpack Che potrete utilizzare Lo vediamo fra qualche secondo Nuovi stili anche Per altre skin Che vi verranno dati Gratuitamente All'ingresso Su Fortnite Se ovviamente avete Queste skin E come vi anticipavo Eccolo qua ragazzi Il backpack Di Tony Stark Utilizzabile Non sappiamo Dove si possa trovare Immagino ovviamente Alle industrie Stark Ma forse anche In altre location Avevamo già sentito In qualche video news Precedente Tutti i suoni Quindi Come vedete Anche lui Ha un utilizzo Limitato Credo che però Non abbia Come funzionalità Il carburante Ma si ricaricherà Da solo Me lo suggerisce Questa colorazione Dei led Azzurri E rossi Una rapida visuale Anche per quanto Riguarda le skin Come verranno presentate Scusatemi Le coperture Come verranno presentate Nello shop Sono ben quattro Noi ne abbiamo viste Solo due E questa è Una delle skin Che vi anticipavo Perché È molto importante Riguarda La skin Esclusiva Di PS5 Quindi tutti i possessori Della nuova console Di casa Microsoft Potranno ottenere Una volta scaricato Fortnite Indy Gokuno Bella Molto molto bella Con tanto di backpack Che mi sa che mi sono dimenticato Di caricare Comunque la vedremo poi Con calma Nei prossimi video Modifiche anche probabilmente Per quanto riguarda Il galactus Nella pre lobby Dove c'è il banco E la mappa disegnata sopra Si dovrebbe vedere Si dovrebbe vedere Molto più da vicino Anche se Io ho un po' Perso le speranze Di vedere realmente Il galactus In questa season Scusatemi È di Sony La PS5 Scusatemi È di Sony Non è di Microsoft Ho sbagliato Stavo pensando Già Scusatemi 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 Un'altra immagine Sbagliate colpa mia Un'altra immagine Sì 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 Che cavolo dice Un'altra immagine ragazzi Vede questa nuova arma Che secondo me Arriverà sul Su Save the World Non credo che faccia parte Del Battle Royale E abbiamo probabilmente Un'altra Skin Dedicata A PS Cloud Striker Che PS ovviamente È di casa Sony Eccolo qua ragazzi Anche il suo backpack Elevation E per chiudere il video Ragazzi Nuova collaborazione Fortnite E Disney Dal 31 dicembre 2020 Qualsiasi acquisto Fate in game Con V-Bucks Oppure se acquistate Nello shop Con i soldi veri Tipo i bundle O robe del genere Otterrete due mesi Di Disney Plus Quindi una collaborazione Che potrebbe anche Proiettare Fortnite Ad un nuovo Ad una nuova Appunto collaborazione Con i personaggi Disney Non mi ci vedo Però Topolino Che spara la gente Insomma ragazzi Io anche per Questo video News Vi ho detto tutto Non Andate via ragazzi Live su Twitch Perché mando Solamente L'outro Voi che l'avete guardato Un bel pollicione in su Iscrivetevi ai miei canali E mi trovate In live su Twitch Ciao 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 Grazie per la visione!